si youtube sono tornato marco drams il mio amico mister in parti che non sentirete mai dai faccio la fine del rally di sardegna visto che appassionatamente avete seguito l'inizio vediamo anche sta fine no stavo chiedendo a mister cosa vuole giocare dopo che farà un biglietto oggi siamo arrivati a 20 iscritti speciale 20 iscritti mi dice mister poi facciamo lo speciale 30 speciali 50 speciale a 50 festeggiamo con lo champagne italiano però veramente fatto bene mister sai se dopo no no è l'8 però sostanzialmente comunque ragazzi se volete provarlo l'avevano regalato col plus anche l'8 se l'avete scaricato col plus mi raccomando anche se non volete giocare i giochi del plus metteteli in raccolta che non si sa mai un giorno magari non avete niente da fare mettendoli in raccolta li avete comunque acquistati tra parentesi nell'abbonamento annuale e li potete scaricare quando volete se non li mettete nella raccolta non li trovate più dovete comprarli per il 50 destra 4 e sinistra 4 100 destra 5 e sinistra 5 e destra 5 in sinistra 3 non tagliare media non piace e destra 5 indossi in sinistra 4 e sinistra piena 30 sinistra 3 in media e destra 3 in lunga sta prendendo un po' la mano sei misto comunque dual sense è fichissimo è veramente diverso dall'altro è più preciso in sinistra piena chiude dossi non tagliare 50 in sinistra 4 e destra 4 stai al centro su cima e sinistra 4 chiude 3 in destra 5 corta no 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 contro l'albero bravo alberello vabbè era un alberello piccolo ma tutto grande alberello facciamo l'applauso all'alberello e destra 4 chiude in sinistra 4 e sinistra 4 media 30 e sinistra 3 corta sul dorso stringi 40 e destra piena taglia poco 50 assurdo destra piena in bosco 50 e sinistra piena 30 in destra 5 taglia 100 e attenzione destra 3 taglia in sinistra 4 taglia questi giochi li fanno simulativi quindi e destra 4 apre lunga così la realtà tu vai dritto tu lo sterrato a un certo punto ti ritrovi in strada senza e sinistra 3 su cima e destra 3 40 sinistra piena per arrivo io ringrazio tutti i nuovi iscritti guardate i miei video se non avete il gioco se vi va di farvi non avete il gioco no cosa è successo? fatto schifissimo no questo non me l'aspettavo fortuna sono ancora primo ma ragazzi prossimo mi da un po' da fare mi impegno un po' sennò qui faccio oh bello di notte che non si vede un kaiser un kaiser qua? no no video video ok 50 sinistra 4 chiude 40 attenzione frena per tornante destro non tagliare apre lunga in sinistra 4 su dosso e sinistra 3 chiude molto lunga su cima e destra 5 in sinistra 5 lunga chiude su cima e destra 4 in sinistra 4 lunga 50 no 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 attenzione frena sinistra 2 non tagliare 50 sinistra 6 corta e destra 5 chiude lunga In sinistra 4 chiude, su cima In destra 4 chiude 3, casa interna chiude, suddossi Sinistra 6 chiude 3, media, non tagliare In destra 2, media, chiude Sinistra 6, frena, persecca, sinistra, non tagliare, 30 Sinistra 3, corta In destra 4, suddosso, in sinistra piena, corta, su cima In destra 5, molto lunga, chiude 4 In sinistra 6, in destra 5 In sinistra 6, in destra 5, corta, 40 In sinistra 5, 60 Sinistra 5 chiude, in destra 4, corta e curve In sinistra 3, stringe, non tagliare, e destra 5 Attenzione, frena, secca, sinistra, apre, 30 Sinistra 5 In sinistra 4, corta, in destra 3, molto lunga Dimmi In sinistra 5, corta, in destra 5, 50 Puoi finire Dopo lo monto dopo In sinistra 3, lunga, apre, 200 Dossi Attenzione, sinistra 5, frena, in destra 3, corta, molto stretta, taglia In sinistra, in sinistra, piena, in destra 3 Troppo forte Quando freni che è esagerato, no? In sinistra 4, non tagliare Perché è proprio freni di brutto Se c'è il ghiaietto così Il freno ti fa tutto 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 Tipo BS In sinistra 3, taglia In sinistra 3, piena, chiude, dossi In destra 3, chiude, in sinistra 4, corta, non tagliare In destra 2, apre In sinistra, piena, in destra 5, non tagliare In sinistra 4, corta, in destra 5, corta, in sinistra 1, non tagliare E tornante destro, in sinistra piena, taglia poco In destra 4, in sinistra 3 L'ultimo tour, benissimo In destra 4, corta, e tornante sinistro, taglia poco In destra 5, e sinistra piena, in destra 4, corta Dover watch C'è più nessuno? Per vuotare? Eh, lo fanno pagare troppo un po' È vecchio come gioco, dovrebbero... ...non metterlo nel plasso Farlo pagare tipo 9 euro Ho visto adesso un'offerta a 19 Gioco di due anni fa Dai Eh dai Vediamo un po' di replay Due minuti giù, un minuto giusto Mi fa vedere anche i ragazzi che vorrebbero magari comprare il gioco come è replay Ha spaccato il farlo Ha brancato dentro il farlo... ...destro Eh si è rotto E' quello che si vedeva in cazzo Vediamo le telecamere La left behind E' quello che si vedeva in cazzo Vediamo le telecamere Vediamo le telecamere Vediamo le telecamere Devo fare andare il tergicristallo Ma dentro il vetro è tutto sporco Devo fare andare il tergicristallo Bello dall'alto Bellissima sta ripresa tipo elicottero Sì C'è anche il suono dell'elicottero Delle pale Bello Bellissimo sta ripresa Un po' Secondo me non è... Adesso fa vedere se c'è rotto il mouse Se c'è rotto il mouse Faccio vedere Com'è che si scrive giusto? Ok Secondo me è un gioco Però Adesso trovo a vedere Vediamo se c'è magari sul Nau da provarlo Il bello del Nau è che si può provare la roba Infatti sinceramente volevo farlo Sai ti dico la verità Perché si uno dice si vabbè ti gioco che lo compri Lì sono in abbonamento Tipo il pass Microsoft Tu ti mettono Però effettivamente ti mettono un sacco di giochi Che tu normalmente non andresti a comprare Guardiamoci chiaro Dai E ti fa provare giochi che in realtà Non provi Certo 150 euro l'anno tipo il pass Microsoft Ci devi giocare Non è... Eh sono 38 39 euro ogni tre mesi 39 per 4 160 euro l'anno Capito? Perché tutti parlano a 50 euro No è live Il live ti regala i giochini quelli stupidi Invece il pass Ultimate che ti da tutti i giochi Costa 39 per l'anno C'è gente anche su Facebook Ma io lo trovo in offerta E la versione annuale Non esiste 39 euro ogni tre mesi E neanche Microsoft non lo fa mensile È solo ogni tre mesi Invece il Now 45 l'anno Sinceramente ti fa provare Un sacco di giochi Poi stanno mettendo anche il Formula 1 Vedi un po' di giochi anche un po' più di spessore Secondo me Sony adesso starà valutando il Now di ampliarlo Fare tipo Microsoft Mettere i giochi Quelli che mettono in sconto Mettere dentro nel pass e far vendere pass a manetta Secondo me lo staranno valutando questa cosa Perché avevo già sentito parlare Sui Sui gruppi Madonna questa modalità è picchissima Davvero? Due dischi c'è anche qua eh Ah io sono digitale sulle Xbox Bello 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 replay Ah E ho vinto Sardegna ragazzi E ho vinto la Sardegna Amici miei di Youtube Grande grande Sì Ok ragazzi Dai Sardegna l'ho fatta E sono primo Dopo chiaramente Non è che uno lo fa tutto A livello normale E poi si fa Chiaramente da capo A livello Un po' più difficile eh Perché allora non è che sono Tutto a sto livello di difficoltà Però Però Già viaggiano Avete visto? La terza tappa Che solo A fare qualche sbavatina Sono arrivato a settimo eh Non è che si deve ridere E scherzare qua Sì si corre Adesso facciamo Aspetta che compro un attimo I potenziamenti mister E poi arrivo subito eh Ma Previsioni meteo Me ne frega Dimentirati E questo che cos'è? Sblocca? Ah Consulente finanziario Sì si sblocchiamo Ok Consulente finanziario Serve Meccanico È andato in feria Ecco Il meteorologo Pure Non è possibile Attivare un membro della squadra A livello di Faticamente a zero Non c'è il meteorologo Dai Ricoltiamo un meteorologo no? No Non ci sono meteorologi Vabbè Quest'anno Non hanno studiato Meteorologia Aspetta Sto vedendo una cosa Bonus morale non è male eh? Oh Quelli messi in riposo Arrivano prima Eh Che c'è un sacco di gente Final Fantasy Remake Beh è molto bello Bellissimo Sì Molto bello Davvero? Io l'ho pagato il prezzo pieno eh Quindi Se è quello Sì secondo me Se ti va di giocarci prendi Bello 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 Ciao ragazzi Ci vediamo su Borderland Fra 5 minuti Sì Ciao Ciao Sinistra 5 30 Sinistra 5, 30 Destra piena, in sinistra piena stringe, 80 Attenzione, destra 4 stringe, in sinistra 5 apre lunga, 100 Attenzione, freno pesante per tornante sinistro, 50 Destra 4, 30 Sinistra 4 chiude, in destra piena, in sinistra piena E destra 4 chiude, in sinistra 3, corta In destra 5, corta, 20 Attenzione, tornante destro, 50 Sinistra 5, 50, su, neve Destra 4, 50 Sinistra 6, 80 Destra 5, corta, 80, su, asfalto Tornante stretto sinistro, non tagliare, allarga, 150 Curve, dossi, in sinistra 5 In destra 5 non tagliare, chiude, in sinistra 6, 30 Destra 5, attenzione, in crocio destra, stringe, in sinistra 4, 30 Destra 4 chiude E in sinistra piena, sul neve, in freno pesante, per tornante destro E in sinistra piena, taglia, e destra piena, chiude Frena per tornante sinistro, e tornante destro E in sinistra piena, media, chiude 5 In destra 6 lunga, chiude, su, cima, 30 Sinistra 5, 30 Sinistra 4, corta, in destra 5, corta, 50 Sinistra 4, 100 Destra 5 lunga, chiude 4, 30 Attenzione, tornante sinistro E destra 3, apre, per tornante destro In sinistra 3, apre, lunga, 50 Destra 6 lunga, su, asfalto E attenzione, cima, in destra 5, all'incrocio, 60 Destra 4, corta, 50 Tornante destro In sinistra piena In destra 4, corta, stringe, in sinistra 5, corta, 40 Destra 5, corta, stringe, in sinistra 5, corta, 150 Tornante sinistro, 50 Tornante destro, 50 Tornante sinistro, 50 Tornante destro, 40 Tornante sinistro, 30 Tornante stretto destro, 30 E in tornante stretto sinistro, tieni In tornante stretto destro, 80 Sinistra 4, 30 Tornante stretto sinistro, in destra 2, apre Per tornante stretto destro, in sinistra 3, 50 Destra 4, corta, stringe, in sinistra 3 In destra 2, apre, stringi In sinistra 3, chiude, casa interna, 20 Sinistra 3, all'incrocio, in curve, stringe, in sinistra 5 Ok raga, i paletti sono tutti miei E destra 6, chiude 4 Troppo forte No raga, no raga, mi sono inchiodato Dai 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 che ce la facciamo ragazzi di Youtube No 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 Dai 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 che ce la facciamo ancora riprendere Attenzione, freno pesante, per tornante sinistro, 50 Non è impossibile Destra 4, in sinistra 4, corta, 50 Comunque ragazzi, 2RC9 per playstation 5 È spettacolare Perché non posso parlare di un punto di vista Ok Sinistra 5, corta, in destra 4, stringe, chiude In sinistra 2, in destra piena, chiude 4, lunga, stringi Che ramba No 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 Perché ha messo la montagna lì, perché erano messo lì Non devono mettere lì la montagna Devono spostare un po' No, sul traguardo Vediamo ragazzi, vediamo Sono nono, che gran figata Rifamola va Vai Sinistra 5, 30 Destra piena, in sinistra piena, stringe, 80 Attenzione, destra 4, stringe, in sinistra 5, apre lunga, 100 Attenzione, freno pesante, per tornante sinistro, 50 Ecco la gara Destra 4, 30 Sinistra 4, chiude, in destra piena, in sinistra piena Forza, forza, forza ragazzi, dai che ce la fa Dai che ce la fa, Marco Drums Sinistra 4, chiude, in sinistra 3, corta In destra 5, corta, 20 Attenzione, tornante dentro, 50 Sinistra 5, 50, su, neve Destra 4, 50 Siamo, se gli spigoli della macchina sono fatti Destra 5, corta, 80, su, asfalto, tornante stretto sinistro, non tagliare, allarga, 150 No Curve, dossi, in sinistra 5 In destra 5, non tagliare, chiude, in sinistra 6, 30 Destra 5, attenzione, incrocio destra, stringe in sinistra 4, 30 Destra 4, chiude Oh, 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 oh E sinistra piena, sul neve, in freno pesante, per tornante destro E sinistra piena, taglia, e destra piena, chiude Diciamo che il guard ray serve per toccarlo dentro, per mettersi dritti Frena, per tornante sinistro, e tornante destro Frena, frena macchina Eh, vedi, il guard ray serve per che ti tira dritto Eh, fatto apposta E sinistra piena, media, chiude 5 Eccolo qui, raga, eccolo qui, raga Ce la può fare, sulla neve In destra 6 lunga, chiude su cima, 30 Not to ground Sinistra 5, 30 Sinistra 4, corta, in destra 5, corta, 50 Sinistra 4, 100 Oh, 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 oh Destra 5 lunga, chiude 4, 30 Duansens su sto gioco, ragazzi, incredibile Attenzione, tornante sinistro Quanto i grilletti adattativi che diventano duri Oh, 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 oh Ma proprio ogni cambio marcia, sembra veramente di avere la macchina sopportura E destra 3, apre, per tornante destro In sinistra 3, apre, lunga, 50 Eccolo I cartelli li provano di tirare, ragazzi Ho fatto il compreso lì I cartelli vanno tirati giù E attenzione cima, in destra 5 all'incrocio, 60 Destra 4, corta, 50 Tornante destro Wow, montagna, perché sei stata messa lì? Vabbè, ma Ci sta, ci sta In sinistra 4, corta, stringi In sinistra 5, corta, 40 Destra 5, corta, stringi In sinistra 5, corta, 150 Oh, ragazzi, comunque Non perdete il mio canale Poi Oggi streamiamo qualcosa tipo Call of Duty Insieme ai miei amici Che adesso li ho mutati Poverini, però Non volevo far sentire Una live in anteprima Devono avere la sorpresa Di sentirmi Nel mio video E praticamente Ho messo la cuffia In mezzo Ho messo la cuffia di fianco Così Non mi distrae Diciamo che una bella postazione Con un volante Sarebbe ideale Però anche giocare così Non è Non è male Anche perché Io gioco A 100 giochi diversi Preno pesante Per tornante stretto sinistro In destra 2 Apre Ecco qua Spero oggi Che ci sia il mio amico Mister Così facciamo un po' di borderland Visto che Avevano saputo 6 persone Che mi hanno seguito Grandissimo video Ho avuto un successo Spettacolare Destra 4, corta, stringi In sinistra 3 In destra 2 Apre, stringi Se no Farò un video di Quattro In sinistra 3 Chiude Casa interna 20 Paletto va Perciò In curva e stringi In sinistra 5 E tu ti la giù Col paletto E destra 6 Chiude 4 In sinistra 2 In destra piena 100 Eccolo Eccolo Attenzione Freno pesante Per tornante sinistro 50 Devo fare anche un video Su a sete corsa A competizione Il gioco italiano Il gioco italiano Fatto benissimo Però bisogna sempre Essere molto precisi In questi giorni E diciamo che già la seconda partita Dopo essere Quattro di tutta la mattina Di otterrata lo spi Non è male In sinistra 2 In destra piena Chiude 4 Lunga stringi Andiamo a provare Qualche botta Raga Non c'è La strada è stretta 30 Destra piena E arrivo C'è la neve E c'è la neve E Marco Drums Il primo E vai Raga Così si fa Così Si fa Visto che è un attimo Di pausa Prendo le cuffie Smuto Buona raga Ci c'è ancora qualcuno Nel party Il mio mitico clan SDMN Mister Franci Ci siete Ah 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 Mi dicono i miei amici Che ero già dentro Non li ho mutati Bene 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 Vabbè dai Figata Ecco Quello che ha detto Il mio amico adesso Non posso dirlo Ma io gli darei due sberle E si è giocato Alla Playstation 5 Che deve arrivare Dal mio amico Del negozio Ma ci sei oggi mister Che me lo chiedono Addirittura 6 me lo chiedono addirittura 6 persone se facciamo il video di ficata ragazzi oggi pomeriggio deve essere 3 e mezza facciamo una live no ma non facciamo le live non facciamo la live ma vedi che c'è c'è gente messa meglio no facciamo i video che poi li metto su youtube così la gente sai magari non ha tempo dormi prova costruttore prova costruttore comunque è veramente bello mister questo gioco qua di vrc rispetto a quell'altro si si rispetto a quell'altro ho fatto un capolavoro come mai le 3 e mezza mister che cazzo di fa la scuola grande mister che si impegna vedete ragazzi fate come mister che alla domenica si studia ok raga e stai a destra su cima in sinistra 4 corta contro pendenza 50 oh my gosh no ricominciamo ragazzi per fortuna ho fatto questa questa modalità di farle e stai a destra su cima in sinistra 4 corta contro pendenza 50 e lo so e sinistra 4 molto lunga non tagliare in sinistra 3 fortissimo si sentivano i salsolini sopra la scuola non tagliare in sinistra 1 non tagliare mi sto tagliando destra 5 suddosso tieni sinistra 4 destra 1 e stai al centro per sinistra 3 molto lunga su cima chiude questo è vabbè un po' si taglia raga in destra 5 chiude 3 media non tagliare assolutamente stai al centro in sinistra 3 su cima apre 30 e ci sono dei tronchili e dosso in destra 5 tossi e sinistra 5 chiude attraverso vai salta e destra 5 contro pendenza su dosso 30 e attenzione salta stai al centro in sinistra 4 su cima e sinistra 5 apre spettacolare attenzione destra 4 tossi non tagliare 40 attenzione destra 5 stringi su salta 30 no 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 rotola dai e sinistra 4 stringi non tagliare non tagliare assolutamente molto lunga apre tossi milioni milioni di ore di tanti dai 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 non tagliare quando prendi normalmente è quasi libero dopo quando ci sono le varie situazioni si indurizza forza non abbiamo un po' di pista per la macchina grande vediamo quanto ho fatto ho trovato il soltone con la skoda dai oh 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 il moralino è un po' basso come mai c'è il morale basso non è andato questo meccanico ingegnere non ne ho il meteorologo non ce l'ho è andato si è andato malato si è andato malato sto ingegnere vai facciamo si ci sono allora prezzo che cos'è che è spese di screzione ricompense xp e basta dai facciamo questa per cambiare un po' ragazzi vi faccio vedere un po' le varie modalità si perché Franci qua ci sono anche il meteorologo c'è su vrc9 no ci sono tutte le varie e loro si stancano dopo un tot di gare e bisogna cambiarlo non prenderne nuovi e bla 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 dai fight per un tot non li puoi più usare devi prenderne un altro e quindi hai doppie persone da pagare le doppie persone da pagare sono tanti soldi ma qui bisogna gestire anche la squadra non è solo corri e basso bellissimo argento ciao guardare Grazie a tutti. Andiamo a vedere se possiamo migliorarlo. Non è! Mi è presa al contrario. Vediamo di frenare proprio. Vediamo se migliora un po'. Vediamo. Vediamo. va beh, no, allora l'ho fatto, è un bel trofeo, morale squadra tirata su, è la prova di prima, non era tutto sto, sto granché, dai arrivo mezz'oretta e poi, oh, un albero, questi rami non posso sbloccarli, allora qui che cosa mi dà, sblocca il fisioterapista, eh sì, eh sì, ti fisioterapista, quanti punti ho? Zero, basta non lo blocco, allora vediamo un attimo il fisioterapista e scegliamo, Cadi Dylon, 37, 15, 37, oh, ho scelto questo, guarda, lei stessa, quello che costava meno? Sì, quello che costava meno, ok, e siamo al completo, ok, riserva, fisioterapista, ok, perfetto, perché mi dice ancora che c'ho? posizione, reclutamento oh, è ancora un affidamento finanziario, non è ancora bloccato, fisioterapista l'ho appena comprato, l'ingegnere, io ne comprerei un altro, perché gli ingegneri, ragazzi, servono sempre oh, bella lì, rally di Sardegna, andiamo ragazzi, qui è il top, eh notate i tempi di caricamento, raga, quasi azzerati su PlayStation 5, eh io non voglio Clan War, perché ce le ho tutte e due le console, quindi però qua è veramente, 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 poca roba, ragazzi, eh, visto? sto già giocando, faccio vedere un po' il scenario, anche perché è fatto veramente bene, eh di solito i giochi di macchine, rally peccano un po' su questo vai ah, non ho fatto assetti, eh sto correndo così, proprio puro, puro macchina iniziale, gioco per iniziare sinistra 4 stringe, in sinistra 5 chiude, frena per tornante destro in sinistra 3 corta, e destra 2, non tagliare nooo eh, già ribaltato nooo non ci sono i guard ray in Sardegna per tornante destro no, frenare in sinistra 3 corta, e destra 2, non tagliare in sinistra 3 corta in frena per tornante sinistro e destra 1, non tagliare e sinistra 5 corta, e destra 4 chiude e sinistra piena, non tagliare, e destra 5 tossi, chiude aia in sinistra 3 chiude 2, non tagliare roccia esterna in destra 3 corta, non tagliare in sinistra 3 corta, apre in destra piena lunga, suddosso e sinistra 3 chiude, in destra 2 media in destra il mostro in sinistra in sinistra tئ in sinistra 3 corta in destra piena il freno è qualcosa di eccezionale senti proprio tutte le asperità che ti fa tipo così questo gioco ragazzi è da avere adesso voglio qualche intenzione di vedere se riesco a recuperare project cars 3 adesso l'ho finito l'hard disk in questo modo mettono la possibilità la mitica Sony di usare il hard disk esterno sinistra 5 corta 30 stai al centro e sinistra 5 corta taglia in destra 5 e sinistra 4 chiude molto lunga stringi in destra 6 su cima in sinistra piena in destra 4 si può sempre migliorare perché non è che ci sto su tantissime ore poi cambiando un altro gioco un altro sapete anche voi che giocate che se non giocate vi dico che è accanto e sinistra 2 chiude media e destra 3 lunga apre 40 in sinistra 3 apre in sinistra 4 su cima a me piace tantissimo di calità se questo è da fuori eh i giochi di auto da dentro e destra 4 su cima chiude in sinistra 5 media chiude 40 anche se dentro ti senti molto più convolto però hanno già chiuso a finire i macchini anche il gt sport che è fantastico e volevo installarlo per vedere se c'è una patch che comunque fa andare in 4k in destra piena chiude 5 in sinistra 5 non tagliare e destra 3 lunga non tagliare apre 60 su cima destra 5 chiude in sinistra 4 freno pesante per tornante sinistro non tagliare 60 e destra 5 chiude in sinistra 5 e destra 5 chiude corda 30 per arrivo ehi bella raga bella raga bella raga ha fatto veramente un buon lavoro è usurato la macchina quanto ho fatto online? 3 e 13 eh eh va male direi ok finita questa raga stacco un po' che ora via da tornante destro non tagliare 30 in salta devo vincere contro 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 balla esterna, A340 Attenzione, destra 3, intornante stretto destro, balla interna Dai, 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 no, questa l'ho sbagliata Ciao, amore mio Finisco di registrare i video su YouTube e arrivo, è stata? Il secondo pezzo l'ho fatto veramente male, ragazzi Si è concentrato al massimo Speriamo che quel altro ha fatto più di me Pesco tu Amore Salute ai nostri amici su YouTube Tornante destro aperto, in sinistra 3, corta Tornante stretto sinistro, non tagliare Non cominciare a mangiare, amore, che c'è una panna Tornante destro, non tagliare, balla esterna, A340 Ecco come si prende la curva Attenzione, destra 3, intornante stretto destro, balla interna La macchina Da ragazza Da ragazza E sinistra 1, 30 Eh Destra 2, corta E attenzione Tornante sinistro, non tagliare In destra 5, stringi E sinistra 1, corta Non tagliare In arrivo Ecco ragazzi Finita 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 Grazie a tutti.